In questo servizio parliamo di un prodotto che gli amanti del giardino conosceranno molto bene, il robot rasa erba. Negli ultimi anni la tecnologia ha migliorato parecchio l'uso di questi dispositivi che aiutano chi intende avere un giardino ordinato senza fare troppa fatica. Prezzo e diffusione sono ormai alla portata di tutti e allora scegliere il modello giusto per il proprio prato diventa la fase più importante. Il MaxiGarden di Osimo è uno dei centri che offrono consigli sull'acquisto oltre ad offrire tanti macchinari per la cura del giardino e della casa. Uno dei modelli presenti è quello di Usquarna che incorpora GPS, batterie a litio, rilevatore di lunghezza dell'erba e controllo da smartphone.